Alice Vegliac dello Ciclèb 70 Nona, Marta Dalbon dello Ciclèb Fiave Ottava, Martina Viviani, Ciclèb di Vigno Settima, Giulia Cola, Ciclèb Alta Valtellina Sesta, Martina Padovan, Polisportiva Sopramonte Quinta, Castello di Fiemme, Veronica Broll E quarta, per lo Ciclèb Marsola, Aghita Agatha Marchi E in podio di questa particolare classifica Al terzo posto per lo Ciclèb Mont Blanc Val d'Aosta Sofì Tussidor Seconda per lo Ciclèb Cortina Comitato Veneto Anna Comarella E prima, per confermare che Passo Cereda porta bene al Comitato Abruzzo Per Pesco Costanzo, Livia Teramo Addirittura seconda assoluta Bene, grazie, complimenti Passiamo Passiamo a premiare la...